A te che stai seduto sul monte dei consigli che affondi porcellane nel pane dei miei figli tu comandante astuto che cambi sempre volto sarò felice solo quando sarai morto a te che nel tuo fiore per tutti aprivi un bar volando su e giù colomba di San Marco nel fango della gente ti ho visto annegare in mano agitavi la fotocopia del suo cuore del suo cuore ed è legittima difesa, è legittima difesa ora la mia bocca è di nuovo accesa è legittima difesa, è legittima difesa torno forte come una bestemmia in chiesa e voi esseri umani mi avete fatto male sparandomi parole con il silenziatore mi avete offerto il fuoco quando avevo sete vi ho prenotato un volo che porta a quel paese a quel paese ed è legittima difesa, è legittima difesa ora la mia bocca è di nuovo accesa è legittima difesa, è legittima difesa torno forte come una bestemmia in chiesa è legittima difesa, è legittima difesa si accenderà la sera di bimbi e fidanzati che suoneranno mai nei giorni ammutoliti togliendoci i cappelli li lanceremo al vento cantando spaccheremo i timpani del mondo ed è legittima difesa, è legittima difesa quella luce spenta è di nuovo accesa è legittima difesa, è legittima difesa torno forte come una bestemmia in chiesa è legittima difesa, è legittima difesa ora la mia bocca è di nuovo accesa è legittima difesa, è legittima difesa da stasera la mia porta resta chiusa legittima difesa Patrizia Bulgari benvenuta Patrizia, non bacetto anche a te oggi è la giornata delle neomamme dopo Isabella Ferrari abbiamo anche Patrizia Bulgari che è diventata mamma da 11 mesi si, 11 mesi Berenice oggi è il primo giorno che lascio mia figlia primo giorno che la lasci e vabbè però bisogna anche lavorare no? eh beh, bisogna riprendere a lavorare comunque torno presto stasera sono a casa ma dove l'hai lasciata? a Milano con il papà è la prima volta che la lasci? si, è la prima volta adesso ti vedi in televisione e piangerà perché vorrà la mamma ma speriamo di no Patrizia, bella questa canzone allora, dopo la maternità 11 mesi di tranquillità di tranquillità e adesso di nuovo il lavoro di nuovo il lavoro con questo album che non è di parte perché è dedicato a mia figlia si chiama Aspettando Berenice il nome di mia figlia beh, Berenice è arrivata e adesso è in famiglia grazie Patrizia auguri per il tuo lavoro e adesso pubblicità e subito dopo di nuovo qua grazie a tutti